buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 28 marzo 2022 iniziamo insieme una nuova settimana a partire dalla rassegna stampa per sapere un po' le notizie che sono accadute nella giornata di ieri e vengono pubblicate oggi sui giornali sul Corriere Adriatico e sul resto del Carlino sulle pagine locali iniziamo appunto la giornata della settimana a partire dal santo del giorno vediamo che cosa ci propone il libro dei santi e vediamo che si festeggia oggi santo Stefano Harding un santo inglese è originario dell'Inghilterra meridionale nacque nella città di Erriot nel 1059 poco prima della famosa battaglia di Hastings presi voti nella abbazia benedettina di Sherbourne ma dopo l'invasione Norman si trasferì in Scozia e viaggiò molto sia in Francia che in Italia fu in realtà il genio formativo dell'ordine cistercense sostenitore del clima di austerità diede un grande impulso a questo ordine facendolo diventare in breve tempo il più grande ordine monastico del tempo nel nome di San Benedetto insomma da una parte c'era l'ordine cistercense dall'altra c'era l'ordine cluniacense due ordini grandi che comunque diedero un grande impulso al monachesimo in tutta Europa Santo Stefano Harding ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo la grafica sulle marche il tempo si mantiene stabile sì un tempo stabile in prevalenza solleggiato sulle marche eccetto qualche velatura sparsa al mattino i venti sono deboli le massime arriveranno ancora a tempi primaverili insomma a temperature primaverili 18 19 gradi sulle coste i venti ispireranno da una direzione media di est e sud est sull'interno ugualmente est e sud est e le temperature sono in calo rispetto alla giornata diciamo la fine settimana scorsa quando toccavano punte anche di 21 gradi questa volta invece andiamo un pochino più a ribasso e apriamo il giornale a partire oggi dal resto del Carlino vediamo che la fotonotizia della prima pagina è dedicata al ex primario del pronto soccorso del San Salvatore di Marche Nord diciamo perché era primario anche delle Santa Croce di Fano il dottor Gnudi troppo scomodo per restare ancora polemiche per quanto riguarda la dipartita di questo di questo professionista che se ne va perché insomma è stato un po' bistrattato dalla direzione e tutti sappiamo perché per le sue dichiarazioni che ha rivolto nei confronti delle carenze che ha evidenziato nel suo reparto e poi vediamo ancora notizie di cronaca per quanto riguarda l'ordine pubblico in determinati quartieri pesaresi no ai balordi la rivolta dei residenti nuove raccolte il grande cuore locale per l'Ucraina ancora aiuti per i profughi manco alimentare in prima linea per i poveri e poi non possiamo non parlare delle giornate del FAI perché ieri in tutta la provincia si sono svelate le bellezze di questo bellissimo territorio le visite guidate e i studenti ciceroni in prima linea e soprattutto la scoperta di tesori che forse si vedevano ma non si sapeva il valore che essi avevano e quindi il FAI ha contribuito a rilevarlo apriamo il giornale nell'interno e vediamo come a ribellarsi contro la presenza di balordi e piazzale primo maggio a pesaro stazionano sulle banchine sulle panchine bevano fin dal mattino quindi si ubriacano litigano in due giorni un comitato di residenti ha raccolto 120 firme grazie ad un tavolino lo vediamo qui in questa fotografia messo in strada segnalazioni anche via social non ne possiamo più serve un vigile che faccia presenza che sia lì insomma fisicamente e che reprima subito le iniziative balorde che gruppi di ragazzi magari annoiati fanno per passare una giornata e chi sono si tratta di quelli che prima stavano davanti al conservatorio dice una donna tutti adulti e per lo più maschi chiediamo l'installazione di telecamere per monitorare l'area è una migliore sicurezza per tutta la zona hanno chiesto i residenti pronto soccorso se ne vanno cinque medici al san salvatore di pesaro chi va in abruzzo chi in umbria chi si mette in aspettativa dalle 22 unità che costituivano l'organico e originariamente si passa quindi a 17 moretti sindacato cimo ora serve chiarezza allora vediamo un po chi si è dimesso si è dimesso la dottoressa vannucci che dal primo aprile prenderà servizio in abruzzo un'altra dottoressa è andata in aspettativa a zero ore una quarta ha chiesto di non lavorare dieci giorni su 26 un quinto medico il dottore cinque palmi si è trasferito in umbria erano appunto 22 sono rimasti in 17 e qui vediamo una intervista a fondo pagina che ha rilasciato il dottore umberto nudi cambio aria per dignità ha dichiarato il professionista e vengono qui evidenziati in questo voto e risposta tutti i motivi del suo abbandono ho preso uno schiaffone in faccia pubblicamente ha dichiarato con la conferenza stampa di tutti i primari schierati io non ho accettato di essere un'espressione della dirigenza ero il portavoce di chi lavorava con me era il portavoce degli altri medici medici in sofferenza come i loro pazienti capivano benissimo come non si riusciva a far fronte a tutte le esigenze che in quel momento quando la pandemia era all'apice della sua virulenza non si riusciva appunto a far fronte a tutti gli ingressi nel pronto soccorso che costituivano un'emergenza una vera e propria emergenza di carattere sanitario dottor umberto gnudi da ex primario applaudito del pronto soccorso a persona messa alla porta che cosa è successo prendo atto ha detto gnudi che non rientro tra i preferiti della direzione di marche nord una espressione molto molto soft per dire altre cose per cui mi rimangono tre turni di lavoro da fare e poi dal primo aprile sono in ferie e di fatto sono fuori villa montani ed ora siamo alle giornate del fai scrigno che non smette di stupire giornate fai viaggio nella dimora nobiliare di ginestreto ora della fondazione scavolini la foto antica che spuntò da un capanno che poi viene data ad una famiglia i cui i cui antenati abitavano in questa villa stupenda nelle colline dietro pesaro dal rudere ai restauri c'è anche una pavimentazione che risale al 1500 al xvi secolo insomma 500 anni di vita di questa costruzione abitata da diverse famiglie un gioiello un tesoro appunto incastonato nelle colline di ginestreto e dalla pieve arriva il piccolo duca le giornate del fai anche a santo stefano di gaifa se la storia fa rima con meraviglia canavaccio i volontari in costumi rinascimentali hanno accolto e guidato i tantissimi visitatori anche un po di scenografia fa effetto per gustare la storia la pregevolezza di queste opere d'arte di queste opere ambientali di queste diciamo con scenografie ambientali che fanno poi da contesto alle vere e proprie opere d'arte ed ora parliamo del cuore del cuore non geografico ma del cuore umanitario della nostra provincia ucraina il cuore della provincia batte forte da monbaroccio a candelara due nuove iniziative per aiutare la popolazione sotto le bombe e i profughi già presenti sul territorio il sindaco di monbaroccio manuele petrucci l'altro ieri è andato alla sede del comitato locale di pesaro della croce rossa italiana per consegnare pacchi contenente farmaci destinati alla popolazione ucraina acquistati grazie alle donazioni dei suoi concittadini e alla preziosa collaborazione della farmacia mazza di monbaroccio un'altra iniziativa parte invece dal quartiere tre colline e castelli ieri la proloco in collaborazione con la protezione civile e il gruppo scout a gesci pesaro 7 poi sono anche alcuni residenti di candelara e nuovilara hanno raccolto circa 50 scatoloni di prodotti per igiene personale giochi per bambini cibo materiale sanitario ed altro un esito quasi inaspettato che ha toccato il cuore della gente dicono gli organizzatori insomma quando si chiede alla gente di collaborare questa non rimane inerte non rimane sorda e contribuisce veramente con grande grande generosità disagi al cimitero dell'olivo qui siamo a fano i bagni sono fuori uso il problema si trascina ormai già da un mese i visitatori spesso non sanno come ovviare al problema c'è chi ricorre ai cespugli per le emergenze un bagno guasto il problema si si può guastare un bagno ma che rimanga da un per un mese in queste condizioni forse non è l'ottimo monta dunque la protesta dei visitatori una situazione che provoca estremo disagio perché poi il cimitero è soprattutto frequentato dagli anziani si sa hanno bisogno di questi servizi igienici a portata di mano c'è un servizio disponibile all'interno della palazzina ma la palazzina dove poi ci fanno le cremazioni è chiusa il sabato e la domenica proprio nei giorni in cui l'affluenza è maggiore e quindi questo è un problema che in questo caso si sente in modo particolare l'entroterra riorganizza i servizi con le cooperative di comunità a Borgo Pace prove tecniche per una cooperativa di comunità nel nostro appennino si è tenuta appunto in questo centro collinare una prima serie di assemblee per far conoscere cos'è una cooperativa di comunità e come opera sul territorio ospite ed eccezione giovanni teneggi direttore nazionale di cof cooperative ed esperto del settore colui che per primo in italia ha accompagnato la fondazione i primi passi di queste realtà che sono molto diffuse nel territorio ad urbino c'è stato un omaggio di una città belga a raffaello sanzio inaugurata nella casa natale del divin pittore la mostra con le incisioni 30 esemplari che in epoca antica contribuirono alla fama dell'autore questa iniziativa si è aperta sabato nella casa appunto natale del di raffaello un omaggio al sanzio con le stampe del museo wittert e della città di liegi entrambi in belgio ebbene anche gli urbinati così hanno avuto modo di conoscere questi originali che insomma urbino a poco di raffaello comunque a questo grande quadro prezioso della muta che in questo momento è fuori per esposizioni torna l'arte al castello brancaleoni a piobbico si sta lavorando per l'allestimento della terza edizione di nero nart una mostra collettiva di artisti locali più o meno noti ma tutti con lo spirito di dare il meglio della propria produzione ed ora vediamo il corriere adriatico lo apriamo sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad un problema che si è che è in atto da tantissimo tempo nella chiesa di san pietro in valle in questo caso il fai non c'entra fanno avuto una bellissima giornata dedicata al fai dedicata dal fai alle bellezze della città in modo particolare da piazza 20 settembre e poi ancora all'area archeologica sotterranea ipogea della mediateca montanari ma in questo caso si parla invece di uno scrigno dell'arte barocca una dei pregevoli e una dei più pregevoli beni dell'arte barocca a livello regionale san pietro in valle san pietro in valle è chiusa da 30 40 anni ormai i lavori di restauro procedono a singhiozzo si fa una cosa poi si deve rifare perché perché l'aria all'interno della chiesa è pregna di umidità e il problema dell'umidità è il primo problema da risolvere perché poi altrimenti tutti gli altri restauri che si fanno vengono vannificati quindi un restauro è impossibile se non si risolve il problema della presenza di acqua sia come infiltrazioni sia come condense sia come umidità proprio che risale ma non meno del sottosuolo perché poi le cavità che ci sono sotto la chiesa una volta sono asciutte una volta sono bagnate insomma non si sa veramente da cosa venga prodotta questa presenza di acqua bisogna fermare le cause della umidità che sta rovinando struttura e arredi sono previste indagini sulle cavità della chiesa già interpellati massimi studiosi dorazio lenzi e clini è stato dato un incarico al al politecnico delle marche soprattutto il dipartimento di architettura e di ingegneria affinché studi veramente che cosa accade all'interno di san pietro in valle e poi proponga una soluzione di restauro sant'anna fiume di visitatori grazie al fai e a mondolfo l'antico bastione restaurato è stato oggetto di visite nella giornata di primavera svelato con il supporto degli apprendisti ciceroni i ragazzi appunto delle scuole un telelaser per tracciare l'unione a cartuceto a cartuceto è stato approvato l'accordo di collaborazione con monbaroccio per l'utilizzo dell'attrezzatura si tratta di un passo avanti nella qualificazione gestionale operativa del progetto valle del metauro un progetto che è stato così evidenziato dal sindaco enrico rossi la base comprende già colli al metauro e va allargata per costruire un comprensorio cartuceto monbaroccio due località due comuni molto molto vicini che possono collaborare insieme per valorizzare il territorio e poi vediamo torniamo a fano e vediamo come il giornale denuncia ancora atti di vandalismo in questo caso nei giardini bracci i giardini bracci sono quell'area verde che divide un po' la palestra venturini dall'istituto tecnico battisti l'area verde del centro presa di mira tra bivacchi scritte e altalene rotte insomma ancora guasti soprattutto per i giochi che vengono destinati ai più piccoli e invece vengono usati impropriamente dai più grandi a pergola addio ad un personaggio molto noto è stato sindaco della città addio a dario conti il sindaco di lungo corso così viene definito fu in prima linea per difendere il suo ospedale e difendere soprattutto i bronzi che volevano dovevano essere trasferiti in ancona fu primo cittadino di pergola dal 1992 al 2004 poi anche assessore il cordoglio per la sua scomparsa da parte di amministratori e politici i funerali si svolgeranno oggi alle 15 in cattedrale a pergola pesca sportiva ce l'accordo ma con un po' di malumore per gli appassionati regole eccessivamente rigide per quanto riguarda appunto la pratica di questa passione sportiva e veniamo sulla pagina di pesaro vediamo come i primi primi articoli riguardano il rilancio del commercio della vitalità del centro storico cittadino il centro esce dal letargo e primavera e quindi letargo finisce per un rilancio che punta sullo shopping conviviale tra le iniziative in programma via castelfidardo come traino della stradomenica ebbene con la primavera tornano in pista assi viari importanti come via via castelfidardo via passeri via cavur e via curiel silvana della fornace che è la responsabile della confrattigianato pesaro sta curando il progetto per la valorizzazione in modo particolare di via castelfidardo una delle vie più antiche della città che attraversava un po' il quartiere anche ebraico ebbene di concerto con il comune sta cercando appunto di valorizzare questa a questo asse viario e dopo via passeri l'aggregazione tra commercianti e attività anche di target diversi prosegue all'insegna della valorizzazione degli assi esterni e laterali della passeggiata centrale si comincia dal centro poi via 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 come un irraggiamento si prosegue verso la periferia e dai quartieri al via la campagna la campagna per i consumi a chilometro zero come risparmiare e contenere i costi e gli sprechi pantano da l'esempio in questo caso il risparmio è proprio la parola d'ordine di questi giorni a causa dell'aumento del costo della vita ex asilo per cto e centro autismo dovrebbe essere cotze non cto e centro autismo troppi dubbi sulla compatibilità biancani il consigliere regionale teme che la centrale operativa possa fare accantonare alla regione il primo progetto dunque centro regionale autismo e centrale operativa territoriale cotze nella stessa struttura comunque questa cosa insomma desta qualche perplessità soprattutto da parte di andrea biancani che l'una possa sfrattare l'altra a compensazione di una sorta di ubimaior minocessar insomma quella che è prevalente poi magari pagocita quell'altra ma sono due servizi importanti per la comunità e quindi occorre difenderle entrambi ed ora veniamo alla cronaca capita a una coppia di passeggiare tranquillamente per la strada in pieno pomeriggio intorno alle 4 del pomeriggio e che succede arriva un ragazzo prende un gioiello una catenina che aveva al collo la signora la strappa e se ne va e questa rimane così allibita in pieno giorno colpo sciocca al sottopasso dei cappuccini circondati e rapinati in pieno giorno coppia vittima di un gruppo di giovani che bivaccano nei pressi alla signora strappato un ciondolo d'oro hanno rapinato una coppia appunto nel sottopasso dei cappuccini della zona della stazione e soprattutto questa zona è una delle più a rischio per quanto riguarda l'ordine pubblico nella città di Pesaro molte volte abbiamo letto articoli di atti che si consumano di atti contrarie all'ordine pubblico che si consumano proprio in questa zona e non nel cuore nella notte ma in pieno giorno infatti ieri alle 16 dice la signora stavo passeggiando con mio marito la signora ha 60 anni quando ci siamo trovati circondati da un gruppo di ragazzi sono stati rapidissimi non ci hanno nemmeno detto nulla, non una parola uno di loro si è avvicinato, mi ha strappato il ciondolo di pomellato che portavo al collo è stato dei fruttini in oro ed è fuggito, è andato via non c'è stato niente da fare, il signore è rimasto impietrita per quello che è accaduto e poi capito che cosa è accaduto si è sfogata in un pianto dirotto concerto maggio per Bezziccheri a Valle Foglia, coro San Carlo si esibisce in chiesa l'appuntamento è fissato per giovedì sera nel giorno del suo compleanno a Santa Maria Assunta poi vediamo anche come il cuore si apre con un carico di medicine abbiamo parlato a Monbaroccio, carico di medicine per l'Ucraina le ha consegnato il sindaco Petrucci al comitato pesarese della Croce Rossa e poi vediamo che la giunta Gambini ha delle nuove indennità a Urbino, i consiglieri formato convenienza intitola un po' sarcasticamente il titolista un adeguamento per il sindaco, 1200 euro in più viceassessori e presidente, lo stesso aumenta l'indennità il gettone fermo, quello dei consiglieri a 19,99 centesimi di euro insomma 20 euro per una presenza nel Consiglio Comunale solo sono veramente gli ultimi della classe i consiglieri per quanto riguarda la paga tra virgolette l'indennità insomma 20 euro per una presenza di lunghe ore magari nel Consiglio Comunale comunque è questa cosa che l'aumento dell'indennità è una legge nazionale quindi interessa un po' tutte le amministrazioni comunali che erano rimaste al palo da tanto tempo rispetto poi alle loro responsabilità insomma il sindaco ha molte, molte responsabilità e rispetto ai consiglieri regionali e parlamentari insomma anche lui non è che guadagnasse tanto però adesso insomma le cifre cominciano a essere importanti vediamo insomma che cosa accade un'indennità da sindaco sale a 4.140 euro al 30% di quella del presidente della regione che è di 13.800 il vice sindaco è a 2.277 sempre per quanto riguarda Urbino poi magari quando aumentano anche gli abitanti di un comune cresce anche l'indennità del sindaco mentre assessore e presidente del Consiglio Comunale prendano 1.863 euro 45% dell'indennità del sindaco fermo restando che le indennità di qui sopra sono sempre dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa quindi ancora un taglio ancora di meno stop all'acqua trekking vittoria per i pescatori del Bosso a Cagli erano stati i primi a segnalare questa pratica vietata poi da Carloni ed ora diamo un'occhiata anche allo sport anche se insomma i risultati non sono molto eclatanti delle nostre squadre per quanto riguarda la vis per una vera e propria batosta contro la Carrarese ha perso per 4 a 1 altro che playoff e tempo di Batoste in titola il resto del Carlino la Carrarese le suona i biancorossi terza sconfitta di seguito sesta nelle ultime otto gare 13 gol incassati nelle ultime 4 ovviamente i commenti non sono positivi lo stesso mister Banchini dice che brutta gara la mia squadra non è questa ora bisogna fare molti sacrifici questo ci servirà da lezione e anche il Fano insomma anche se ha ottenuto un pareggio contro il Montegiorgio non naviga in buone acque che beffa play out ormai quasi certi per il Granata contro il Montegiorgio servivano i tre punti per alimentare le speranze di salvezza diretta invece non c'è stato niente da fare bisognerà fare nuovi scontri per almeno restare nella Serie D e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e questa sera occhio alla notizia per le nuove notizie del giorno un ETG condotto da Simona Zonghetti questo è tutto a risentirci grazie a tutti